La Spagna e la Turchia hanno firmato una serie di accordi per rafforzare i rapporti tra i due Paesi. In un vertice bilaterale a Madrid, Recep Tayyip Erdogan e Pedro Sanchez hanno anche discusso di scienza, energia e formazione professionale, oltre che al commercio. È l'ottava riunione bilaterale di alto livello tra i due leader che ha l'obiettivo di dare un nuovo impulso alle relazioni economiche tra i due Paesi. Secondo gli accordi siglati, gli investimenti commerciali raggiungeranno la cifra di 25 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Durante il vertice il presidente turco ha ringraziato il premier spagnolo per il suo sostegno nel riconoscimento della Palestina. Entrambi hanno esortato gli altri leader della Nato a fare pressione per fermare i combattimenti a Gaza e hanno chiesto maggiori aiuti umanitari per i palestinesi e il rilascio degli ostaggi.